Benvenuta a Vittorio Nessica, sono Sharon, come posso aiutarti? Se ti interessano i fili interdentali tipo questo, c'è una super promozione, 3 a 79,90€ Guarda, è comodissimo Allora, questo ce l'abbiamo, leopardato, chiepardato, maculato, zebrato e dan... Ah, lo volevi rosa? E no, rosa non c'è Tu sei nata principessa? Ma sei cresciuta guerriera? Ma prendi questo! Lo chiamiamo 50 sfumature di pizza noi in negozio Io te lo impazzirà Ah, non hai un lui? Vabbè, io mica mi sconvolgo, cioè, comprarlo per la tua lei Ah, non hai neanche una lei? Vabbè, sai che c'è, te lo puoi comprare anche per te stessa Cioè, ti guardi allo specchio e dici, cavolo, ho speso 190€, ma sono una figa atomica E... Vediamo cosa hai scelto Ah, insomma, sei passata da 50 sfumature di pizza a 50 sfumature di ciclo Mi sa che hai sbagliato il negozio No, dicevo, banco, matto Sono 34,90€ Appoggia pure Grazie, alla prossima